buongiorno a tutti proseguiamo il nostro viaggio nell'art nouveau e nel modo specifico analizziamo invece la situazione della secezione viennese allora vienna sul finire dell'ottocento e la vera e propria culla della cultura e del gusto art nouveau qui vediamo la presenza di alcuni tra i più significativi artisti musicisti intellettuali del tempo tanto per citare qualche nome sigmund freud che scopre la nozione destabilizzante ed inconscio e la centralità della vita sessuale gustav maler che disgrega il linguaggio della musica sinfonica e in ambito artistico gustav klimt due sono gli avvenimenti che rinnovano e condizionano la vita culturale viennese uno è la creazione della scuola di arti e mestieri il cui nome ricorda l'esperienza dell'arts and craft exhibition society di william morris si tratta di una scuola pubblica che forma a nuove figure professionali quindi viene istituita proprio per creare degli artisti in grado di poter provvedere a rispondere a quelle esigenze ormai consolidate soprattutto nell'ambito delle arti applicate i corsi nascono con l'obiettivo di unire ai consueti strumenti per la formazione artistica anche un bagaglio di nuove conoscenze tecniche relative ai materiali alle loro caratteristiche al loro impiego industriale l'altro grande cambiamento è la nascita della secessione vale a dire un gruppo di artisti che si chiamano associazioni di pittori e scultori della secessione austriaca nata nel 1897 con a capo gustav klimt questo gruppo di artisti questa associazione nasce con l'obiettivo di distaccarsi radicalmente dall'ambiente intellettuale ancora vicino al gusto accademico organo ufficiale del movimento è la rivista ver sacrum in latino significa primavera sacra il cui primo numero esce nel 1898 e non a caso viene utilizzata come immagine di copertina questa questa immagine molto forte potente ovvero un albero le cui radici rompono il vaso in cui inserito quindi la secessione è proprio questo carattere cioè secessione significa scissione distacco e in ambito artistico indica una presa di distanza dalle direttive dell'arte ufficiale da parte di artisti intenzionati a rinnovare il gusto della propria epoca e nel fare questo promuovono l'integrazione tra pittura arti decorative e architettura questa necessità di cambiamento di distacco di scissione si manifesta anche in altre città allora uno è monaco l'altro è berlino tra l'altro nella secessione di berlino vi partecipa anche munch e la terza è vienna dove nel 1897 klimt wagner holbrich ed altri artisti partecipano a questo contributo importante ma qual è diciamo l'obiettivo principale della secessione viennese vi ho qui inserito quelle che sono proprio le parole adottate dal gruppo di artisti aspirano ad un'integrazione delle arti per consentire la realizzazione di un'opera d'arte totale cioè significa combinare ad esempio l'elemento architettonico decorativo pittorico piuttosto che musicale in un'unica grande opera d'arte totale in questo senso come espressione quindi del nuovo impegno artistico e sociale dell'arte moderna e quindi anche un'affermazione fondamentale di parità tra le arti maggiori e minori tra arte per il ricco e arte per il povero vienna come vi dicevo una città che si rinnova anche dal punto di vista architettonico questo è un esempio la stazione della metropolitana sulla karlsplatz di otto wagner ma soprattutto i secessionisti realizzano un edificio che viene chiamato palazzo della secessione realizzato da holbrich nel 1898 1899 con l'obiettivo proprio di realizzare un luogo dove gli artisti potevano esporre le proprie opere è un edificio che ricorda un po nella tipologia i templi della classicità infatti un edificio dedicato alle arti sormontato da una cupola traforata da foglie dall'oro le foglie da loro sono il simbolo l'attributo di apollo e che nella mitologia classica era appunto il dio delle delle arti e vi si accedeva tramite questa scalinata nella scalinata noi vediamo poi sulle pareti che decorano appunto l'ingresso e volutamente viene lasciato questo immaginario cioè di una parete bianca disadorna con elementi invece dorati su alcuni particolari di queste pareti dove campeggia la scritta versacrum primavera sacra e poi nella parte invece sommitale una scritta in tedesco che sancisce diciamo il vero e proprio motto degli artisti secessionisti vale a dire al tempo la sua arte all'arte la sua libertà quindi un edificio di pianta quadrata un semplice contenitore pensato anche all'interno in modo flessibile in modo tale da creare pareti che potessero in qualche modo modificarsi a seconda della necessità e del bisogno Klimt è la personalità più alta della pittura Art Nouveau nasce in un subborgo viennese e nonostante appunto l'inclinazione artistica dimostrata fin da giovane decide volontariamente di non iscriversi all'accademia di delle belle arti ma di frequentare la meno prestigiosa scuola di arti decorative di Vienna qui gli insegnamenti si fanno decisamente importanti compirà poi un viaggio nel 1903 in Italia in particolar modo a Ravenna e anche a Venezia dove avrà modo di studiare vedere dal vivo la tecnica del mosaico che susciterà in lui un grande interesse morirà poi nel 1918 per gli esiti di un ictus cerebrare che lo aveva semi paralizzato per entrare nella sua personalità ho inserito qui due frasi due concetti essenziali allora uno Klimt dice che di lui non esiste alcun autoritratto nel senso che non è interessato alla sua persona come oggetto di pittura quanto più è interessato alla figura femminile che variamente dipinge e rappresenta poi non è interessato a parlare di sé o scrivere di sé lascia alle sue opere il modo migliore per poter esprimere il suo credo artistico negli anni passati nella scuola di arti decorative Klimt aveva ricevuto un insegnamento accademico basato sullo studio del nudo e sull'ornato qui mette appunto un linearismo essenziale dal forte gusto decorativo che si concretizza in una morbida linea curva di contorno come è possibile vedere in questo disegno profilo di una ragazza questo è il Klimt forse meno riconoscibile un Klimt che studia Michelangelo che studia l'arte rinascimentale se osserviamo appunto i personaggi maschili sono personaggi muscolosi vigorosi michelangeleschi inserite però all'interno di un contesto naturalistico fortemente decorativo che ricorda appunto le ricerche tipiche dell'art nouveau ma la sua attenzione si concentra come vi dicevo sulla figura femminile allora qui ritrae Giuditta un'eroina biblica la quale aveva sfruttato la sua bellezza la sua forza seduttiva per scacciare i nemici gli assiri che cercavano di conquistare la sua città Giuditta era una vedova e che mette in campo appunto il suo potere seduttivo per sconfiggere i nemici e allontanarli dalla città seduce Oloferne lo invita a cena lo fa bere lo seduce e in un momento di debolezza lo decapita qui è rappresentata fiera sicura di sé e incarna proprio il tipico modello della femme fatale tipico dell'ambito simbolista quindi una donna portatrice di seduzione ma anche di morte e violenza seminuda con un velo trasparente con elementi decorativi dorati che tiene in mano la testa del povero Oloferne lo sfondo uno sfondo completamente astratto dorato impreziosito ancora di più poi anche dalla presenza di questo gioiello posto sul collo della donna la donna la bocca semi semi chiusa gli occhi semi aperti con la testa leggermente reclinata all'indietro come vi dicevo sicura e seducente l'immaginario più di Giuditta si combina spesso e volentieri nell'immaginario di Salome che abbiamo visto essere un'altra tematica molto diffusa nell'ambito simbolista quindi Giuditta e Salome seppur due vicende differenti si combinano in questo in questa tipologia rappresentativa che è tipica di Klimt quindi la combinazione di elementi decorativi sia nello sfondo sia negli elementi costitutivi in un forte linearismo bidimensionalità recupero se vogliamo anche nell'utilizzo della cornice dorata di una certa pittura gotica ma Klimt viene ricordato come celebre ritrattista e lo dimostra in questo ritratto di Adele Blochbauer che era la moglie di un importante industriale ebreo del tempo nella viena del tempo un dipinto di formato quadrato come ama spesso Klimt la donna anche qui viene rappresentata in un bellissimo e vario pinto abito con motivi decorativi tratti dalla tradizione egizia vediamo la ripetuta presenza di occhi all'interno di una figura triangolare dove combina l'elemento naturalistico ad un elemento propriamente astratto e dove l'elemento da sfondo la poltrona su cui è seduta delle Blochbauer e l'abito diventano quasi un tutt'uno per quanto riguarda il dipinto c'è una vicenda molto complicata relativamente al dipinto tra l'altro è uscito un film nel 2015 dal titolo woman in gold che analizza le problematiche relative alla restituzione di questo dipinto poiché l'opera era stata appunto commissionata Klimt da questi industriali ebrei viennesi l'opera poi finisce in mani naziste e finirà poi in un secondo momento nel uno dei più importanti musei della città di Vienna che è le gallerie del belvedere e lì vi rimarrà fino a qualche anno fa quando la nipote di questa donna di Adele Blochbauer che era emigrata negli Stati Uniti per sfuggire alle persecuzioni naziste rivendica la proprietà del dipinto e inizia un'accesissima battaglia legale con il museo delle gallerie del belvedere di Vienna e la vicenda si risolve con la vittoria inaspettata della nipote che fa sì che il dipinto non rimanga più a Vienna ma venga via con lei negli Stati Uniti a dimostrazione di quel periodo di quella fase estremamente triste della città di Vienna che si era piegata alla forza nazista contate che questo dipinto era davvero considerato un'opera di primaria importanza nell'immaginario vennese un po' come per noi dovessero togliere un'opera di Raffaello gli Uffizi e però questa battaglia legale viene vinta in modo così sorprendente vi invito a vedere il trailer del film o se avete tempo a vedere il film che in modo un po' romanzesco però analizza in modo preciso le vicende. Questa è un'altra opera di formato quadrato di Klimt dove rappresenta il bacio e l'abbraccio di due amanti le due persone in questione sono Klimt stesso e la compagna circondati da un'aura adorata ed inseriti su uno sperone fiorito. In realtà questo tema è un focus di un episodio che realizza per un'altra importante opera all'interno del palazzo della secessione il fregio della vita di Beethoven, fregio di Beethoven in realtà anche citato. Questa è Danae, un'opera di formato quadrato in cui protagonista una donna anche qui tratta dalla mitologia greca. Danae era stata rinchiusa dal padre in una torre isolata da tutto e da tutti perché al padre era stato predetto che se Danae avesse avuto un figlio questo figlio lo avrebbe sconfitto, l'avrebbe ucciso ed è posto. Quindi il padre per evitare il succedersi di questa terribile vicenda decide di isolare e rinchiudere Danae. Danae però, una donna bellissima, viene vista da Zeus il quale decide di mutarsi, di trasformarsi in pioggia dorata e di fecondare Danae. Infatti la scena, l'episodio è proprio il momento in cui Danae sta dormendo nuda e una pioggia dorata la sta fecondando. Qui compare di nuovo tutti quegli elementi decorativi tipici dell'Art Nouveau, in particolar modo il velo qui semitrasparente, ma anche i capelli che avvolgono e sono delle linee curve sinuose tipiche dell'Art Nouveau, sono ovviamente una citazione alla corrente artistica. Vi farei notare ancora questi particolari decorativi dorati presenti su questo velo violaceo che ricorda quello di Giuditta, non sono in realtà dei particolari decorativi a caso, ma sono i blastocisti. Cioè sono delle cellule, le prime divisioni cellulari che in genere si formano cinque giorni dopo la fecondazione, per i quali Klimt li inserisce perché partecipava a delle serate diciamo scientifiche insieme ad altri personaggi dove venivano proiettate delle meraviglie microscopiche che potevano essere osservate attraverso appunto i microscopi. Questi mondi così nuovi scientifici che avevano a che vedere con la natura suscitano in Klimt un grande interesse a tal punto da adottarli come elemento decorativo. E arriviamo all'opera d'arte totale che coinvolge Klimt nella decorazione del Palazzo della Secessione nel 1902 dove si era deciso di organizzare una mostra dedicandola al compositore romantico tedesco Ludwig van Beethoven, un'occasione nella quale Klimt realizza un fregio di 24 metri che occupa l'intera sala dell'edificio e qui il giorno dell'inaugurazione doveva sarà anche eseguita l'inno alla gioia di Beethoven diretto da Gustav Mahler. Quindi qui viene messo in campo proprio l'idea di arte totale poiché al centro della sala vi era inserita questa scultura che ricordava un po' le sculture crisolefantine del mondo classico di Fidia con rappresentato appunto Beethoven e al centro di questa stanza poi vi era il fregio come vi dicevo lungo 24 metri che circondava le tre pareti della stanza. Nel giorno dell'inaugurazione poi doveva compiersi anche uno spettacolo di danza quindi in modo tale da unire pittura, musica, danza e quindi le varie espressioni artistiche in un'idea appunto di arte totale, globalizzante. Qui Klimt esperimenta tra l'altro delle tecniche molto particolari infatti inserisce materiali diversi, utilizza polvere d'oro, vetri, frammenti di specchio, madreperle, bottoni, pietre dure e narra in realtà la vicenda dell'uomo, dell'anelito verso la felicità, cioè di un uomo che si mette in cammino alla ricerca della felicità e lo rappresenta sotto forma di un'allegoria e sotto forma di tappe che adesso andiamo a vedere. Allora la prima scena è l'anelito alla felicità in cui vediamo tre figure nude, tre donne che rappresentano le debolezze del genere umano che spingono la figura di questo cavaliere dall'armatura dorata che rappresenta la forza, accompagnate poi da altre due figure femminili che rappresentano simbolicamente la compassione e l'ambizione e lo spingono verso questo cammino, il cammino è il cammino della vita. I tratti somatici di quest'uomo ricordano poi i tratti di Gustav Mahler, cioè il compositore. Ma che cosa trova nel suo cammino l'uomo? Trova l'ostilità delle forze avverse. Queste forze avverse vengono rappresentate in modo anche qui allegorico e simbolico da questo gigante, gigantesco gorilla che è Tifeo e dalle figlie di quest'ultimo, le tre gorgoni, e che rappresentano appunto le forze ostili, cioè quelle che impediscono all'uomo di procedere nel suo cammino. Rappresentano la malattia, la follia, la morte, la volutà, la lussuria, l'incontinenza e più in là in una figura isolata di donna scheletrica l'angoscia, che viene rappresentato appunto come un dolore struggento, il tormento, una figura scheletrica. Ma attraversando e superando queste forze ostili, l'uomo che cosa incontra? Incontra la musica. La musica è di nuovo una figura femminile che suona la lira, circondata da figure femminili che volteggiano e l'accompagnano, ed è una figura che emerge da un fondo bianco, quindi come se fosse in un atteggiamento tra l'altro meditativo, riflessivo, ed è circondata da questi personaggi che evocano un po' un movimento, una sorta di danza. E la quarta scena è proprio la rappresentazione, l'apoteosi della felicità, cioè l'uomo attraversando tutti questi pericoli e qui Klimt in realtà rappresenta graficamente i versi di Schiller dicendo appunto che le arti ci conducono fino al regno dell'ideale, dove soltanto possiamo trovare pura gioia, pura felicità, pur amore. Quindi Klimt ci trasporta in una sorta di paradiso dove ogni desiderio è soddisfatto e pacificato e qui il bacio finale eterno tra la figura maschile e quella femminile suggella definitivamente questo traguardo. Quindi il tema del bacio qui è di nuovo come dire ripreso, qui il cavaliere, dobbiamo immaginarci che sempre lui, quello che inizia il cammino, abbandona la sua armatura e si rappresenta quindi nudo, senza più difese, nel momento proprio di raggiungimento della felicità. E con questo finiamo. Buono studio!